Buongiorno a tutti. Allora, adesso abbiamo un'oretta, un buon giretto, un giretto in giostra, visto l'orario è più che bene, in un'ora faremo come il tempo a vedere tutti i fiori di loto e capire un po' di cosa si tratta questa zona, su questa parola. Questo è solo un assaggio di loto, più avanti ci saranno delle dispese molto più grandi e saremo completamente a forti, tra poco, tra poco, non preoccupatevi. Non sarà magari apertissimo come la mattina, perché a quest'ora cominciano un po' a chiudersi, si chiude il loto. Però ne apriremo qualcuno a mano, non è un problema, lo lascio anche raccogliere. E mentre andiamo, adesso se vi interessa vi faccio un po'...